A urne chiuse, il candidato del centrosinistra, Francesco Maiorino, dice quello che non poteva pronunciare. Non aver avuto un leader di partito a livello nazionale non ci ha aiutato, commenta Maiorino. Non aver avuto una leadership nazionale ci ha costretto a fare di più, anche se ho sentito il PD Lombardo sempre al mio fianco. Siamo un caso di studio a livello internazionale. Per aver fatto la consultazione sulla leadership interna durante elezioni così importanti come quelle della Lombardia e del Lazio. Rimane il rammarico, aggiunge, di aver presentato il candidato due mesi prima del voto. Non basta nel centrosinistra Lombardo la soddisfazione di essersi consolidati come secondi. La batosta di queste elezioni regionali è evidente sulle facce di tutti e la vittoria nella città di Milano conferma ancora una volta il milanocentrismo di una campagna elettorale che si gioca invece anche nelle valli. Anche il laboratorio politico di cui Maiorino parlava, sperando di riproporlo con forza sul piano nazionale, sembra già sfilacciato. Il segretario in bilico Enrico Letta, Andrea Orlando e altri insistono nel festeggiare il fallimento dell'OPA, dicono, contro il PD, del Movimento 5 Stelle e del Terzo Polo, che ha fatto male a chi l'ha tentata. E forse il punto politico è proprio questo. Il centrosinistra non vince anche e soprattutto perché il centrosinistra non c'è, non esiste. Il Partito Democratico è scisso tra le ali che tendono verso il Movimento 5 Stelle, l'una, e verso il Terzo Polo, l'altra, fallendo in entrambi i casi. E mentre Maiorino si dice convinto del fatto che abbiamo aperto una fase di dialogo, che mi auguro vada avanti con il Movimento 5 Stelle, il refrain che va per la maggiore è quello di viaggiare uniti. Credo che gli elettori di centrosinistra meritino sempre una coalizione unita, spiega Maiorino, ma nel frattempo Letizia Moratti, proprio in quegli stessi minuti, ripete ad altavoce che unire le forze con Maiorino che si è schiacciato sul Movimento 5 Stelle sarebbe stato tradire il nostro elettorato, dice e annuncia, di aver aperto uno spazio politico nuovo. Il punto politico, urgente da sciogliere ancora di più dopo queste elezioni regionali, sta tutto qui. Il Partito Democratico vorrebbe tenere insieme partiti profondamente diversi per natura e per programmi. A questo si aggiunge che il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo continuino legittimamente a dichiararsi inconciliabili, anche perché il fronte largo che qualcuno vede come soluzione prevede la somma degli elettori, come se fossero numeri da poter mettere insieme in scioltezza, anche perché la situazione è nerissima, ma per tutti. Letizia Moratti dimostra di essere inconsistente in una ragione che mi inlantava di avere in mano. Credere che l'ex vicepresidente, che per più di mille volte era stata d'accordo con Attilio Fontana, potesse essere una sua alternativa, è una calunnia politica che poteva funzionare solo negli editoriali sballati di qualche giornalista senza contezza del territorio, a proposito, dove sono finiti tutti, o nei palati dei salotti che ora sosseggiano inorriditi il tè del martedì. Stesso discorso per il Movimento 5 Stelle, che fa i conti con una sconfitta certificata anche delle parole di Giuseppe Conte, che dice di risultato assolutamente non soddisfacente e finalmente riconosce che la mancanza di strutture territoriali in nome della politica liquida non paga per niente. Anche Unione Popolare, che si proponeva come unico partito di rottura, rimedia un pessimo risultato. Anche perché, bisognerebbe avere il coraggio di dirselo, la vittoria schiacciante di Attilio Fontana arriva dopo una legislatura in cui i Lombardi hanno provato sulla loro pelle, nel modo più doloroso possibile, l'inefficienza regionale durante la pandemia. E allora la domanda è una. Cosa deve accadere più di una pandemia gestita in modo di senato per spingere i Lombardi a uscire di casa, a votare una rivoluzione, della propria regione. A rigor di logica basterebbe essere meno peggio di quegli altri, o forse semplicemente si viene visti come uguali. E questo dovrebbe essere il punto iniziale di ogni analisi della sconfitta. Anche perché, visti i risultati, ora i dirigenti, tutti, dovrebbero andare a casa. E invece non lo farà nessuno, quasi nessuno. Solo il segretario regionale di azione. Niccolò Carretta l'ha fatto. Una delle cause di disaffezione verso la politica è che nessuno si assume mai le responsabilità, ha scritto. Difficile, tagli torto.